Il questore di Udine, applicando il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha disposto per motivi di ordine e sicurezza pubblica la sospensione per 15 giorni della licenza del locale Nuovo Fiore, situato ai Rizzi. In tale contesto è stato riscontrato che il locale, oggetto della chiusura, presenta una notevole capacità attrattiva di persone pregiudicate o pericolose, in molti casi assolutamente non collaborative, diffidenti verso i controlli delle forze dell'ordine, così da divenire un loro luogo di ritrovo abituale. In diverse occasioni, nell'anno in corso e in quello precedente, il personale di polizia è intervenuto, d'iniziativa o su segnalazione telefonica ai numeri di emergenza 112, per eventi di rilievo anche penale, che hanno interessato il locale e i suoi avventori, accertando la presenza di soggetti italiani e stranieri pregiudicati o con a carico vari e rilevanti segnalazioni di polizia per reati contro la persona e il patrimonio in materia di sostanze stupefacenti, armi nonché destinatari di diverse misure di prevenzione.